L'anno scorso abbiamo recuperato solo le spese, questi miei dipendenti dovranno venire con me, andiamo dove vogliono, a Comune, a Roma, andiamo e facciamoci mantenere come fanno tutti gli altri. Io mi sono stancato di combattere, non ce la faccio più. Cominciamo dalla fine di un'intervista per evidenziare l'inizio di un dramma. Sevedino Molisse è il titolare di un'impresa, fino ad oggi in crescita, operante nel settore della fornitura di pneumatici, sei dipendenti, tutti regolarmente assunti, commesse a più livelli. Dallo scorso anno le avvisaglie della crisi. Nel 2012 il signor Molisse ha rilevato meno 20% nella fatturazione a proprietari di autovettura e addirittura meno 50% per auto articolati e tir. Eppure l'azienda ha continuato a lavorare. È capitato però che, e lo ha testimoniato portandosi un librone di diverse pagine, diversi clienti privati abbiano cominciato a ritardare i pagamenti, affiancati in questa purtroppo triste necessità, fino anche da enti pubblici, non in grado di onorare gli impegni economici derivanti da forniture regolarmente ricevute. L'ultima beffa dal consorzio di bonifica del Sarno. Ecco il dramma di chi piccolo imprenditore rischia di essere travolto, malgrado il lavoro, dalla crisi. Perché i crediti sono fermi da anni. Io ho un problema con un ente, il consorzio di bonifica del comprensore Paganino Cera, che per un credito irrisorio, circa 500 euro, sono due anni che non riesce a liquidarmelo. Ieri la beffa, dopo alcune sollecitazioni e inviti a poter compensare il credito con le loro bollette che loro mandano ogni anno per le acque fluviali che noi andiamo a pagare, ieri mi è arrivata una cartella esattoreale per dei crediti non versati nel 2012. Io comunque dagli documenti posso dimostrare che nel luglio del 2011 e venti giorni fa ho risollecitato l'ente a poter fare le compensazioni per non arrivare a questo punto, sapendo che l'ente per poter recuperare questi importi dai cittadini stava mandando queste cartelle. Stamattina sono stato lì alla sede centrale per chiedere delle spiegazioni, assenteismo, dirigenti di uffici che non c'erano, e un responsabile della ragioneria mi ha invitato a fare la fila all'ufficio Catasto per poter chiedere eventualmente se si potesse fare questa sorta di compensazione. Paghiamo solo le tasse perché loro hanno il cotello dalla parte del manico, appena uno non paga arrivano i cartelli esattoriari, arrivano e si vengono a prendere i soldi se uno ha da perdere. Come possiamo tutelare? Cosa possiamo fare? Dobbiamo chiudere? E allora io mi metto in fila a tutte le altre aziende che hanno chiuso nel 2012.